Allora, una notizia, dunque la conferenza che dovevamo fare a Bologna il sabato 18 aprile, il Comune di Bologna per ragioni tecniche l'ha rinviata in quanto la data era troppo vicina, e l'ha rinviata quando ha ricevuto il titolo della conferenza e le tematiche della conferenza. Ancora una volta ci si sta impedendo di diffondere il nostro pensiero, ancora una volta si fa dell'attività contro la Costituzione della Repubblica impedendo alle persone di esprimere il loro pensiero. Ancora una volta, dico, la mafia cattolica interviene con i suoi accoliti, col suo potere, con i loro sanguinari assassini, perché tutto sommato non è altro che la continuazione di chi accendeva i roghi per impedire la diffusione di un pensiero che ha una sua funzione, è quella di impedire ai cattolici di stuprare i bambini nelle parrocchie. Purtroppo voi sapete che questa attività non è mai stata inquisita, non è mai stata seguita, se non negli ultimissimi anni, se non quando le cose erano estremamente eclatanti, non è mai stata seguita perché era dettame del Dio. E purtroppo molti magistrati sono più sottomessi al dettato del macellare di Sodoma e Gomorra che non alla giustizia come livello oggettivo, come determinata dalla Costituzione della Repubblica. Purtroppo questo stato di cose è andato maturando in tutti i decenni, per cui sembra che impedire a qualcuno di esprimere il proprio pensiero, di esprimere le proprie opinioni, sia quasi normale, sia quasi un'attività accettabile e non un atto di terrorismo mafioso. Bene, noi accettiamo questo e ci auguriamo che sia stato solo un rinvio tecnico, cioè ci auguriamo che... vediamo un attimo solo. Pronto? Allora vediamo un attimino il numero del cellulare dell'istituto, vi do il numero, è 03383910727. Per cui, vabbè, insomma, questo è il numero del cellulare. Comunque vedete voi, insomma, cosa risponde, eventualmente se... E mi ha telefonato un certo Andrea, che io in questo momento non ce l'ho presente, mi dispiace per lui anche se magari sarà un pagano, un amico. Comunque eventualmente voi controllate, voi controllate se il numero corrisponde all'istituto. Altrimenti telefonate direttamente a casa mia. Mi dispiace per Andrea, ma io non ti ho in mente in questo momento. Comunque lo ringrazio per avermi telefonato. Dico questo. Niente, noi speriamo che non sia la cosa così grave come si è presentata a Treviso, col sindaco Gentilini, che ha effettivamente impedito l'espressione delle idee. Cioè, effettivamente Gentilini ha fatto l'inquisitore nel modo più bieco e abbietto possibile. Io spero che sia soltanto stato un rinvio tecnico. Cioè, nel senso che effettivamente ci siano state delle difficoltà da parte del Comune di Bologna di concederci la sala. Se ci sono state queste difficoltà, a queste difficoltà noi chiaramente ci adeguiamo perché non è che pretendiamo che ci diano quello che vogliamo quando lo vogliamo noi. Questo sarebbe una cosa assurda, insomma, una cosa che non ha assolutamente senso. Per cui noi speriamo che sia stato soltanto un rinvio tecnico e speriamo che le cose procedino in modo più tranquillo. Cioè, almeno più serio, giuridicamente più corretto. Questo è quello che ci auguriamo. Chiaramente siamo un po' perplessi perché l'insieme delle cose, come le cose si sono svolte, ci lasciano molto, ma molto perplessi. Nella trasmissione di oggi noi andiamo avanti col discorso del crogiolo dello stregone nei quattro canti del mondo. Per chi si fosse messo in ascolto in questo momento o in questi giorni oppure da poco tempo, voglio ricordargli che il crogiolo dello stregone altro non è che la persona stessa, cioè tutte quelle cose che una persona mette in atto per levarsi dalla posizione in ginocchio, per rivendicare se stessa davanti al mondo. Abbiamo parlato del crogiolo dello stregone l'estate scorsa e abbiamo messo insieme una serie di elementi. Esistono degli altri elementi ancora, però sono talmente soggettivi, talmente specifici che non vale la pena più di tanto metterci a cento, cioè appartengono alla singola persona. Io ho tentato di mettere insieme quegli elementi che sono generali, cioè nel senso che possono essere, anzi devono appartenere a qualsiasi persona in misura, in modo diverso a seconda delle persone, a seconda del loro fare, però devono esserci. Dopo aver definito il crogiolo dello stregone e gli elementi che intervengono e quali sono gli elementi per i quali la persona si toglie dalla posizione di ginocchio e dalla posizione di sottomissione, la seconda arte della stregoneria è quella di costruire le relazioni col mondo che ci circonda, cioè riconoscere nel mondo che ci circonda le coscienze e con le coscienze costruire delle relazioni, delle relazioni che sono sempre relazioni alla pari, al di là di quale sia la coscienza, al di là della sostanza della coscienza. E prendiamo il crogiolo dello stregone e lo mettiamo nei quattro canti del mondo, per cui prendiamo tutti gli elementi del crogiolo dello stregone e li mettiamo nei quattro canti del mondo. Dopodiché, come saprete, noi continuiamo anche con la trasmissione del crogiolo del male, cioè praticamente come si distrugge la volontà e il divenire la persona, cioè la capacità della persona di affrontare la vita è di trasformare se stessa, per cui continuiamo con questo. Un'altra cosa, devo dire, prima di cominciare è la trasmissione del crogiolo dello stregone nei quattro canti del mondo, che oggi tratteremo della sospensione del giudizio. Questa sera, fra le ore 19 e le ore 20, non faccio lettura del Gesù di Nazareth l'infamia umana, perché mi sono accorto che ultimamente molte persone nuove, diciamo così, fra virgolette, stanno ascoltando la trasmissione. E allora, per consentire a quelle persone nuove, o comunque che non hanno seguito fin dall'inizio il discorso, tratterò i temi della conferenza che abbiamo tenuto a Treviso. In pratica, terrò qui in radio lo stesso percorso, la stessa traccia della conferenza che ho tenuto a Treviso, per cui potrò dare una panoramica generale di come si colloca il pensiero pagano e della stregoneria. Per cui, se siete interessati, questa sera fra le 19 e le 20, riprenderò l'intera conferenza di Treviso e esporrò tutti i temi che abbiamo trattati allora e chi ascolta quella conferenza avrà una visione generale, una visione panoramica e potrà seguire con più facilità i temi specifici che di settimana in settimana trattiamo. Cioè, perché noi parliamo del Gesù di Nazareth come infamia umana? Beh, nella conferenza c'erano qualche accenno che vi permette di collocarlo all'interno dell'insieme del nostro pensiero. È chiaro che il nostro scopo è quello di togliere il male e di togliere la perversione del mondo. Perché togliendo la perversione, togliendo il male, quello che noi descriviamo come male, non il male come elemento oggettivo, ma quello che noi intendiamo come male, ciò che resta non è altro che la capacità dell'essere umano di rapportarsi col mondo. Chiaramente i nomi non saranno gli stessi, i nomi delle relazioni saranno diversi, ma una volta tolte tutte quelle forze che mettono in ginocchio l'essere umano, che uccidono il lavoro delle sue mani, che lo privano della capacità di costruire la sua vita, una volta tolto tutto questo, le relazioni è possibile costruirle. Per cui il togliere il male, parlare di ciò che distrugge il divenire dell'essere umano, è centrale nel nostro discorso, non c'è niente da fare. Per cui capirete perché diciamo certe cose. Facciamo una panoramica generale, cioè andiamo a parlare della creazione, il divino, parliamo dei riti da stregoneria, cosa sono, parliamo dei principi, i dogmi fondamentali del paganesimo, cioè cos'è il dogma di libertà, in cosa consiste. Per cui chi segue la trasmissione questa sera fra le 19 e le 20 potrà avere una panoramica di tutto questo. Adesso cominciamo invece con la trasmissione di oggi. E la trasmissione di oggi è del crogiolo dello stregone ai quattro canti del mondo, tratta della sospensione del giudizio. Per quanto riguarda i quattro canti del mondo abbiamo già fatto delle trasmissioni per definire i quattro canti del mondo, non lo riprendo più il discorso. Quando si è parlato del crogiolo si è sostenuto che il bastone con cui l'apprendista stregone mescola il proprio crogiolo è formato da tre elementi atti a predisporre l'individuo di cui sono parte ad affrontare il mondo che lo circonda nella sua complessività. Uno di questi elementi è la sospensione del giudizio. Attraverso la sospensione del giudizio un pagano e un apprendista stregone lascia aperta, non prendo telefonate finché non ho finito, un apprendista stregone lascia aperta la propria percezione ad ogni fenomeno che gli si presenta. Ogni fenomeno è soggettività, il suo essere soggetto è indipendente della nostra percezione e della nostra descrizione. Ogni fenomeno non è ciò che ci appare ma è ciò che è anche se noi lo utilizziamo e lo descriviamo per quanto siamo in grado di percepire del suo presentarsi. La sospensione del giudizio relativa ai fenomeni che incontriamo è tanto più importante tanto più ci allontaniamo dalla descrizione della ragione. La fede nel Dio creatore e la fede nella ragione dicono che i fenomeni sono solo quanto noi immaginiamo nelle religioni rivelate o descriviamo nella ragione. Pertanto i fenomeni esistono solo nella misura in cui vengono riconosciuti altrimenti vengono negati dalla ragione o immaginati nelle religioni rivelate. La religione rivelata deve costringere l'individuo ad immaginare per coltivare l'adesione al suo credo. La ragione deve costringere l'individuo a descrivere per coltivare nell'individuo la dipendenza da se stessa. La religione rivelata deve costringere al condizionamento educazionale nelle fantasticherie per costringere l'individuo a leggere il mondo che lo circonda attraverso esse. La ragione deve convincere l'individuo che quanto esiste è solo quanto descrive. Deve convincere che il nuovo è quanto lei descrive e che non esiste nulla fin tanto che lei non lo descrive. Il mondo esiste solo nella misura in cui lei lo descrive. Questi sono due tipi di approccio dove le religioni rivelate sottomettono ai loro fantasmi mentre la ragione sottomette alla descrizione. La religione rivelata costringe l'essere umano a costruire delle relazioni sottomettendo ai suoi fantasmi. La ragione costringe a costruire delle relazioni soltanto da quanto descritto. La ragione finisce per costruire delle relazioni soltanto con quanto ritiene di descrivere. Così la descrizione della ragione e il Dio creatore sono degli assoluti davanti ai quali distruggere l'essere umano. Come il Dio creatore è padrone dell'essere umano, così la ragione si erge padrona dell'essere umano costringendola a pensare alla ragione come assoluto di se stesso. Contro questi due fantasmi lo stregone brandisce il bastone della sospensione del giudizio per affrontarli. Lo stregone considera il mondo in cui vive uno sconosciuto dal quale apprendere e imparare, nel quale muoversi con agilità e determinazione. Uno stregone non conosce fantasmi di paura in quanto ritenendo se stesso un Dio che agisce per divenire nell'eternità dei mutamenti, ritiene che quanto lo circonda sia come lui, degli dei che agiscono per divenire nell'eternità dei mutamenti. Non esistono fantasmi, ma fenomeni da affrontare. Non esiste descrizione sufficiente per definire quanto la consapevolezza incontra. Allora lo stregone, anziché piegare il mondo nelle fantasticherie delle religioni rivelate o di saccheggiarlo per costringerlo nella descrizione della ragione e della logica, attrezza se stesso per affrontare quanto non conosce. Il fenomeno è oggetto in se stesso ed è consapevolezza e fine del suo esistere. Nel momento stesso in cui il fenomeno attrae l'attenzione dello stregone, questi, subite la sua attenzione, vi concentra la propria. Il fenomeno con cui si entra in relazione è una consapevolezza che sospende il giudizio nei confronti dello stregone, invitandolo a mescolare i rispettivi crogioli. Non è importante in questo caso la qualità del fenomeno. Nel momento stesso in cui una consapevolezza chiama o viene sollecitata da uno stregone, ha sospeso il giudizio nei confronti dello stregone e dell'intera specie cui questi appartiene. La sospensione del giudizio è un modo di porsi degli esseri di qualunque specie, mentre percorrono un sentiero per lo sviluppo della propria conoscenza e della propria consapevolezza. Senza la sospensione del giudizio non possono esistere i quattro canti del mondo. Senza la sospensione del giudizio ogni essere tende a ridurre quanto non conosce alla dimensione di quanto conosce o immagina di conoscere, alla dimensione del proprio divenuto in quanto specie, dove le peculiarità specifiche della specie impone la qualità delle relazioni. La sospensione del giudizio permette di superare il proprio divenuto in quanto specie e di proiettare se stessi in quanto consapevolezza. La sospensione del giudizio supera il giudizio della specie, supera l'essere specie per diventare consapevolezza. Superare le tensioni della specie ci permette di pescare idee, energia, consapevolezza da qualsiasi consapevolezza incontrata senza per questo trasformare la relazione in fantasmi terrificanti. L'essere che sospende il giudizio raccoglie quanto incontra perché quanto incontra era quanto stava cercando, quanto stava cercando e quanto lo costruisce è oggetto descritto che riporta alla propria specie. Sospendendo il giudizio l'essere umano si fa Saturno, l'uso dello strumento trasforma l'essere umano. Attraverso la sospensione del giudizio Saturno espande la sua consapevolezza nei quattro canti del mondo. Esseri vegetali sospendono il giudizio ed espandono la loro consapevolezza nei quattro canti del mondo. Nei quattro canti del mondo Saturno fonde il proprio crogiolo con la consapevolezza che cerca incontra, gli intenti si cercano vibrando all'unisono. Le consapevolezza degli esseri vegetali nei quattro canti del mondo fondono il proprio crogiolo con l'essere che cercano e incontrano, gli intenti si cercano vibrando all'unisono. Necessità fonde i crogioli, volontà determina la tensione della e nella fusione. I quattro canti del mondo vibrano e cantano le loro armonie legati fra esseri vegetali o essere vegetale e l'essere umano o gli esseri umani che hanno fuso il proprio crogiolo con loro. Saturno ha fuso il proprio crogiolo con quello degli esseri vegetali formando i quattro canti del mondo. Il divenuto di Saturno è fondazione del divenire degli esseri vegetali. Il divenuto degli esseri vegetali è fondazione del divenire di Saturno. Saturno non piega la consapevolezza di colui con cui si relaziona, alla descrizione della propria ragione, né costruisce un fantasma di un potere assoluto che lo vuole sottomettere. Egli ha davanti ciò che ha davanti, ciò che ha davanti diventa Saturno. Gli esseri vegetali non piegano la consapevolezza della coscienza con cui si relazionano, né pensano a se stessi al centro dell'universo. Essi hanno davanti ciò che hanno davanti, ciò che hanno davanti diventa esseri vegetali. I crogioli si fondano, si fondano i bisogni e i cammini. I contenuti dei crogioli si versano l'uno nell'altro. A noi non interessa sapere cosa le consapevolezze degli esseri vegetali che fusero il proprio crogiolo nei quattro canti del mondo con quello di Saturno riportarono alla loro specie. Noi sappiamo alcune cose che Saturno riportò alla sua specie. Insegnò a quegli esseri umani i rudimenti dell'agricoltura. Cosa ha costruito Saturno attraverso la fusione del suo crogiolo nei quattro canti del mondo? Appartiene a Saturno è il potere di essere che è espresso sospendendo il giudizio. Sospendere il giudizio costruisce l'essere umano in relazione al mondo che lo circonda, permettendo l'arrivo di nuovi fenomeni senza per questo doverli descrivere o trasformarli in fantasmi. In un secondo tempo la sospensione del giudizio è l'arma che permette all'essere umano di affrontare lo sconosciuto nei quattro canti del mondo, senza per questo trasformarlo in fantasmi o in elementi conosciuti della descrizione. L'essere umano nei quattro canti del mondo, attraverso la sospensione del giudizio, alimenta la propria consapevolezza, ricerca gli strumenti per soddisfare i propri bisogni, risolvendo i propri problemi, ma descrivendo solo una minima parte quale contributo personale allo sviluppo dell'oggettività in cui vive. I quattro canti del mondo sviluppano la consapevolezza degli esseri che vi partecipano e nella misura in cui vi partecipano per la qualità delle relazioni. I quattro canti del mondo sono percezione soggettiva delle relazioni e gli attori che vi partecipano riportano la propria specie sempre quanto a lui serve, quanto lui ritiene possa servire a migliorare la propria esistenza e le condizioni del proprio sviluppo. Ogni essere che partecipa alla fusione nel crogiolo dei quattro canti del mondo è padrone di se stesso e della relazione e la sospensione del giudizio nei quattro canti del mondo gli permette di non ridurre la relazione alla propria dimensione di specie, raccogliendo il meglio alimentando il proprio potere di essere. Nella prossima trasmissione inseriremo un altro elemento del crogiolo nei quattro canti del mondo, lo scetticismo nei quattro canti del mondo. Scusate un attimo, vi ricordo che il giudizio appartiene comunque alla ragione perché è un pensiero, cioè un modo di pensare. La ragione per emettere un giudizio deve emettere un insieme di parole, cioè deve descrivere una cosa, ma la cosa, la ragione la descrive soltanto nella misura in cui affronta quella cosa, in cui vive quella cosa, cioè in cui l'essere umano vive quella cosa. Facciamo un esempio molto semplice. Tutti conoscono, l'abbiamo già fatto questo esempio, tutti conoscono il principio di Archimede, no? Un corpo immerso in un fluido riceve una spinta del basso verso l'alto, pari al peso e volume del fluido spostato. Ormai chiunque abbia fatto le scuole medie questo principio lo conosce, lo conosce, lo fanno studiare in fisica, dopo che lo studiò meno è un altro discorso. Bene, questo principio è stato elaborato scientificamente, diciamo così, da Archimede. Però prima che Archimede elaborasse questo principio, gli esseri umani usavano i legni, usavano le barche per navigare. Cioè, pur senza conoscere la descrizione di quel principio, senza essere in grado di esporre scientificamente quel principio, gli esseri umani avevano delle barche e navigavano. Allora, praticavano un principio, cioè vivevano un principio, senza però conoscere il principio stesso, perché il principio viene descritto. In stregoneria si dice sempre che l'intelligenza è la capacità di descrivere dei problemi partendo da soluzioni date. Cioè, in pratica, io navigo sull'acqua, mi costruisco una zattera, tanto per essere chiaro per qualcuno, mi costruisco una zattera, però non ho risolto il problema. Cioè, riesco a navigare, ma non so perché navigo. Quando io riesco a descrivere il problema che io ho risolto mettendo insieme i tronchi e navigando, quando io riesco a descrivere il problema, posso riprodurre in situazioni diverse quella descrizione per cui ampliare le soluzioni. Però l'intelligenza è la capacità di descrivere problemi e soluzioni date. Questo in stregoneria, poi esistono altre definizioni di intelligenza all'infinito. Cosa succede però? Che quel principio, anche se è descritto, resta lettera morta. Cioè, fino all'avvento di Galilei, il principio descritto da Archimede resta lettera morta. Perché? Perché fino all'avvento di Galilei la scienza è convinta che gli oggetti navigano perché contengono un che di aereo. Tutti sanno che Galilei è stato processato perché lui ha detto che era la terra che girava attorno al sole e non il sole attorno alla terra, come sostiene la Bibbia. In realtà non è vero. Cioè, se questa è la forma per cui fu processato, la sostanza per cui lui fu processato fu processato perché contestò il principio secondo cui gli oggetti galleggiano perché contengono un che di aereo. Cosa significa questo? Apparentemente è una sciocchezza. Però il fatto che gli oggetti galleggino perché contengono un che di aereo appartiene a Aristotele. Allora dovete sapere che in tutta quanta quella che è stata la rivoluzione filosofica cattolica, specialmente di Tommaso d'Aquino, di Tommaso d'Aquino il centro di tutta la sua filosofia, di tutte le puttanate che dice, perché Tommaso d'Aquino dice solo cazzate, è Aristotele. Cioè è un commento a ciò che afferma Aristotele, la scienza di Aristotele, la grandezza di Aristotele e così via. Affermare che Aristotele diceva delle cose non vere significava, mentre nei dubbi in realtà tutto il filosofeggiare di questo pseudo, di questo dottore della Chiesa, la Chiesa ha i dottori che si meritano, anche i macellai. E questo è il motivo per cui Galilei in realtà ha dimostrato che aveva ragione Archimede e praticamente ha dato l'inizio anche a contestare quello che era la scienza di Aristotele. Per questo motivo fu condannato. In realtà Galilei ha riscoperto ex novo questo principio, cioè è come se lui lo avesse riscoperto nuovamente questo principio, come se lui lo avesse rielaborato e per far questo ha dovuto sospendere il giudizio. Ha dovuto dire no, Aristotele si sbaglia e il giudizio che gli è stato imposto era quello di Aristotele che i corpi galleggiano perché contengono anche di aereo. E ha dovuto riformulare il principio attraverso il silenzio. Cioè ha dovuto sospendere il suo giudizio della ragione, ha dovuto bloccare le soluzioni che la sua ragione gli dava per costruire una nuova soluzione. E questo fu comunque da parte di Galilei un atto di stregonele. Non è un atto di studio. Cioè le scoperte non avvengono perché si studia. Le scoperte avvengono perché c'è un accumulo di dati, un accumulo di tensioni, un accumulo di situazioni, un accumulo di cose che a un certo punto esplodono, sfociano in qualcosa. Per cui è sempre un accumulo carica-scarica, la vecchia equazione reichiana, per cui avviene anche le modificazioni in stragonaria. Per cui per riuscire a far tutto a questa operazione, Archimede per riuscire a capire il principio, gli esseri umani per riuscire a galleggiare prima che capissero perché le cose galleggiavano. Galileo prima per riuscire a riformulare il principio del galleggiamento. Tutte queste operazioni sono state delle operazioni di stragonaria e hanno comportato la sospensione del giudizio nell'attimo stesso in cui il giudizio doveva essere messo in maniera diversa. Cioè l'epoca, il condizionamento educazionale e la ragione diceva che ci doveva essere un giudizio. Dovevamo formulare dei giudizi perché la nostra descrizione aveva degli elementi per formulare il giudizio in certo modo. Bene, quel giudizio ha dovuto essere fermato, bloccato, sospeso e riformulato. Questa operazione è un'operazione di stragonaria, è un'operazione di modificazione di se stessi. Che differenza c'è fra la conoscenza e l'informazione? L'informazione è un dato fino a sé stante. La conoscenza è il dato all'interno di un insieme, ma il dato all'interno di un insieme trasforma l'individuo, l'individuo lo fa proprio, l'individuo lo fa gocita. L'individuo agisce attraverso quel dato. Abbiamo già fatto un esempio una volta, no? Come fanno per esempio i missionari a distruggere la conoscenza? Come hanno fatto? Cioè arrivano i missionari in Amazonia, arrivano dagli indios e gli indios gli insegnano quali sono i frutti che si possono mangiare. Il frutto giallo si mangia, il frutto rosso si mangia. Dopodiché il missionario va via e insegna ai suoi che il frutto giallo si mangia e il frutto rosso si mangia. Arrivano i missionari con l'esercito, uccidono gli indios e loro sanno che il frutto giallo si mangia e il frutto rosso si mangia. Ma gli indios, quando ha indicato al missionario che il frutto rosso si poteva mangiare e il frutto giallo si poteva mangiare, sapeva anche che il frutto azzurro non si poteva mangiare perché era venenoso, che le altre bacche erano venenose, che quell'erba era curativa e che l'altra cosa faceva male. Cioè aveva un bagaglio di conoscenza con il quale lui affrontava la vita, lui era relazione della vita. Cosa ha in mano il missionario? Ha due armi. Io so che posso mangiare il frutto giallo, io so che posso mangiare il frutto rosso. Però quelle due cose le ha rubate, non ha costruito delle relazioni con la vita. Per cui quando lui prende i bambini degli indios che dopo che li hanno macellati insegnerà il bambino degli indios che può mangiare il frutto giallo e il frutto rosso. Non insegnerà tutta la conoscenza degli indios, per cui tutta la conoscenza andrà morta, andrà perduta. Perché questo? Perché il missionario sa rubare l'informazione ma non sa costruire le relazioni col mondo. Lui è padrone del mondo, lui è creato in maniera somiglianza del suo Dio. Per cui lui è un padrone, cosa le frega? Lui basta rubare. Cioè il padrone ruba, nel senso che lui ruba le informazioni e con le informazioni costruisce schiavitù. Bene, questo è per quanto riguarda l'argomento di oggi. Potrei anche prendere le telefonate se qualcuno vuole telefonare. E ho una rassegna stampa ormai vecchissima. Io mi scuso con Andrea. Intanto lo ringrazio perché mi ha telefonato il numero di telefono che io non avevo. Purtroppo non ho in mente chi sia, per cui io sono sempre abbastanza dubbioso, nel senso che sospendo il giudizio. Io vi ridò un'altra volta il numero del telefonino che mi ha dato Andrea per telefono ed è 0383910727. Ripeto ancora, il telefonino dell'istituto, secondo la telefonata dell'amico Andrea, è 03383910727. Probabilmente è giusta, però io sono contento in ogni caso. Un altro proposito di contentezza. Grazie per Alberto della cassetta che mi hai mandato. Appena posso me l'ascolto. Sempre per il livello di contentezza. Grazie Franco per gli asparagi. Erano veramente buonissimi. E grazie di tutto e anche di tutto il resto. Ogni volta che riesco a avere una discussione, riesco a avere qualcosa, va sempre bene. Benissimo direi. Le cose avvengono sempre per trasformazione. Questo è un messaggio per Franco. Le cose hanno sempre un tempo di maturazione, un tempo di trasformazione. Nessuno prende le cose come rivelazione, cioè nessuno viene abbagliato dalla luce. Le persone devono sempre prendere le cose e macinarle lentamente. Perché le persone devono cambiare lentamente, mai e velocemente. Altrimenti succede un casino. Se qualcuno pensasse che io ho la verità, sarebbe bene... Io gli sputo in un occhio, tranquillamente. Non esiste che da me si prende la verità. Da me si prende quello che interessa e basta. Bene. Chiuso qui i ringraziamenti. Oltre a tutti gli altri, naturalmente, che devo telefonare. Comunque adesso telefonerò. Vediamo un attimino. C'è qualcuno che mi sta pensando in questo momento. Ho visto che mi stanno fischiando le orecchie. Allora, dal gazzettino del 18-3-1998. Beh, questa è una notizia in sospeso dell'ultima volta. Il Vescovo scoprire gli influssi negativi. Vi ricordate gli influssi negativi a proposito di quelle ragazze che hanno ammazzato le ragazze nel paese? Bene. Sembrerebbe che gli influssi negativi erano, non so, il parroco di quel paese, un pedofilo arrestato che abusava di bambini. Foggia ufficiò il funerale della studentessa, barbaramente uccisa, con l'accusa di alcuni minori. E' stato arrestato, prete arrestato per pedofilia, stuprati in confessionale. E' il parroco della ragazza uccisi dalle amiche. Io vi ricordo una cosa. Perché noi mettiamo il punto su questo aspetto? In fondo i pedofili sono tanti. Non sono soltanto i preti che fanno i pedofili. Chiariamocelo questo. Però il problema è semplicemente dottrinale. Cioè nel senso che il prete fa questo, innanzitutto rubando la fiducia dei genitori che gli portano i ragazzi che pensano che in altri posti starebbero peggio. E questo è il furto della fiducia. Vi ricordo che il furto della fiducia a Roma era il furto che era praticamente il leggerimento. C'era la condanna a morte. C'è tanto per essere chiari. Pronto? Pronto? Ciao Luigi. Come sentivo la tua trasmissione? Dimmi. Pronto? Sì, ti sento. Ecco, ti volevo confermare con il numero di cellulare che dicevi prima per radio. Grazie Andrea, allora. È 0338? Sì. 39? Sì. 10? Sì. 727? Perfetto, grazie Luigi. Ecco, inoltre vorrei ringraziare gli amici ascoltatori di Gamma 5 per la cena di venerdì. Luigi che ha fatto la cena del musso in occasione del venerdì santo con la partecipazione di parecchie persone. Ne parlerò allora adesso. Ecco, potrei parlarne per radio. Adesso ne parlo, sì. Ok, ciao. Ciao, grazie. Ciao, ciao. Allora, l'amico Luigi ha confermato quanto ha detto Andrea. Andrea, mi scuso della mia sospensione del giudizio e ti ringrazio 100.000 volte. Luigi ha accennato della cena del musso. Allora, che cos'è la cena del musso? Il gruppo di pagani di Marostica, di dintorni, hanno l'usanza che quello che è per i cattolici il venerdì santo, vanno a festeggiare con una cena di musso. È un rito anche questo, perché è un rito sistematico che serve sia ad aggregare il gruppo, cioè sia a fare delle cose assieme, sia per parlare anche di cose comuni, sia specialmente per divertirsi e nello stesso tempo per ricordare un amico, un iniziatore del paganesimo morto alcuni anni fa. Questa cena, quest'anno, è stata piuttosto ricca. Purtroppo, mi avevano avvertito dove andare e come andare, però avevo il telefono bloccato nelle varie case e anche se hanno lasciato i messaggi nella segreteria, hanno convinto di aver fatto avere il messaggio e invece non me l'hanno fatto avere. A parte il fatto che ho talmente incasinato che non so se ci avessi fatto quel trasloco ad arrivare. Comunque, niente, è stato un grande rito, è stato un grande rito di cui, niente, voglio ricordare che ogni anno i pagani del gruppo di Marossi e con tutti i pagani simpatizzanti che sono disponibili, che hanno la possibilità, quello che per i cattolici è il venerdì santo, loro vanno a fare la cena del musso. E quest'anno è stata, sembra, molto frequentata ed è stata anche molto divertente. Grazie Luigi di aver telefonato. Andiamo ancora avanti. Dal Gazzettino del 17 marzo 1998, dice, è sempre il solito discorso degli ebrei, le colpe dei cattolici, eccetera. Allora, a colpa il Papa perché lui sapeva o non sapeva, eccetera. Chiediamoci una cosa, l'istigazione all'odio ha responsabilità contro chi l'odio e lo pratica. Non esiste cose diverse. Se tu dici che tizio è un mostro, tizio è un mostro, tizio è un mostro, qualcuno magari dopo gli viene voglia di dargli una bastonata. Allora, colpevole è tu, che hai detto che tizio è un mostro, colpevole è chi gli ha dato la bastonata. La colpevolezza non va divisa a metà, ma va raddoppiata, nel senso che sono due i colpevoli, non che la pena va divisa. Pertanto, la Chiesa è responsabile del massacro fin dai primi anni da quando è diventata Chiesa ufficiale, fin da quando Gala Placida, attraverso gli editti di Teodosio, adesso mi ricordo più Orosio, vedete voi insomma qual è l'editto preciso, si impedì agli ebrei e ai pagani. di praticare la loro religione, di praticare i loro riti, di praticare il commercio, addirittura di detenere beni, cioè bisognava affamarli questi disgraziati. Naturalmente non ce lo siamo dimenticati. e sulla Repubblica del 18 marzo 1998, il rabbino Rosen chiede di aprire gli archivi vaticani, in quanto dice che la Chiesa insegnò a disprezzarci, lui degli ebrei. Il problema è un altro, che è vero che gli ebrei hanno avuto 6 milioni di mortici, però la loro dottrina è uguale alla dottrina della Chiesa Cattolica, cioè è la stessa dottrina, lo stesso fondamento religioso ed è gli stessi insegnamenti. Per cui loro sono dispostissimi a passare sopra qualsiasi tipo di massacro, usandolo, loro ci hanno massacrati, per carità, però quello che a loro interessa è trovare degli agganci per costruire un'unità di intenti, un'unità di intenti che sta per essere costruita fra tutte e tre le grandi religioni, cioè sia cristiani, musulmani, ebrei, e stanno tentando di aggregare anche i buddhisti lamaisti, anche i buddhisti tibetani. Perché questo? Perché la Chiesa Cattolica li va bene come intrattura in Cina, cioè li va bene come grimaldello per farsi aprire il sociale cinese. La Chiesa Cattolica ha bisogno di, non so, probabilmente 100 milioni di prostitute e altri bambini da stuprare, perché hanno il diritto di praticare la religione purché sia nei luoghi di culto. Se la religione diventa strumento di oppressione sociale è un reato, cioè non si può in Cina trasferire i principi morali e etici della Chiesa Cattolica all'interno del sistema sociale. Anche in Italia questo è proibito, però la tradizione italiana, la tradizione cattolica italiana è tale da riuscire a superare queste proibizioni attraverso dei trucchi. Però anche in Italia è proibito. Infatti la Chiesa Cattolica può praticare il suo credo, la sua morale, la sua etica soltanto all'interno delle pratiche religiose. Estendere questo al tessuto sociale è destabilizzazione della Costituzione. Tanto deve essere chiaro. Cioè nel senso che mentre la Costituzione della Repubblica indica un'uguaglianza fra tutti i cittadini, al di là del ceto sociale, al di là della condizione, al di là di quello che fa, cioè un'uguaglianza non solo davanti alla legge ma un'uguaglianza dei diritti, delle pretese, etiche e morali, la Chiesa Cattolica impone ai suoi sudditi, perché non so neanche chiamarli fedeli sudditi, di soggiacere al macellare di Sodoma e Gomorra. Cioè il macellare di Sodoma e Gomorra ha il diritto alla macellazione e questo è apologia di strage. Questo è delitto. Per cui mentre in ginocchio dei bambini, mentre in ginocchio delle persone davanti a un personaggio, a una descrizione di un personaggio che dice o fai quello che voglio io o io ti ammazzo, è un'etica morale della Chiesa Cattolica che per secoli ha dimostrato come questa, questa sia la sua espressività religiosa, è molto grave nei confronti della Costituzione. Molto, molto grave. È gravissimo. Cioè si parla di attentato alla Costituzione, anche se qualcuno vuole evitare che ci sia questo reato. No, non è possibile. Non è assolutamente possibile perché liquidare il patto sociale significa liquidare la pace sociale, significa liquidare il progresso, significa dare il via non so, una guarda civile a questo punto. Cioè liquidare il patto sociale. O il patto sociale va modificato nei limiti e nei modi previsti dalla legge, previsti dalla Costituzione stessa oppure è un macello. Qui ci sono solo prevaricazioni. Se vediamo qualcosa di brutto si profila se viene toccato quello che è il patto sociale. E il patto sociale è la nostra Costituzione. Anche se viene aggirata in tutti i modi, viene vituperata, stuprata in tutti i modi possibili. A proposito di Costituzione, vi ricordo che fra poco si comincerà a compilare modelli 730, modelli 740, dichiarazione di redditi. Mi raccomando, alla voce, non firmate per le Chiese Cattoliche, non firmate per i Cristiani. Può farvi schifo lo Stato, può non piacervi lo Stato, potete dire che lo Stato usa male i soldi. Tutto quello che volete. Ma meglio firmare per lo Stato fa meno danno che non firmare per la Chiesa Cattolica. Per favore non date i soldi a chi stupra bambini spacciandosi per inviato di Dio. Londra, frusta abolita scuola. Vi rendete conto? Siamo dalla Repubblica del 21 marzo 1998. La Camera vieterà le punizioni corporali ancora usate in alcuni istituti per ragazzi. Siamo il 21 marzo 1998. Nella ricca Inghilterra, nella progredita Inghilterra, si usava fino al 21 marzo 1998 ancora la frusta per le punizioni corporali degli alunni. Nella prossima settimana i legislatori bricianici dovranno rivedere anche la legge sulla pirateria e quella del 1351 sul reato di alto tradimento. Siamo alla modifica di leggi di 600 anni fa. Ho fatto un po' voi. Siamo veramente fuori di testa. Dal gazzettino del 2 aprile 1998. C'è a Venezia una mostra sconvolgente sull'annullamento della realtà femminile in Afghanistan. Donne in Afghanistan sotto il velo o niente. Il 14 ottobre 1996 una bambina di 10 anni è stata condannata all'amputazione delle dita per aver messo delle smalto sulle unghie. Vi ricordo che i cattolici, ma tutti quanti, hanno fatto una grandissima guerra. Una grandissima guerra per parlare. Ah, i sovietici hanno invaso l'afghanista. Ah, questi. Bene. Hanno finito di imprecare contro i laici, perché praticamente erano laici, nel momento stesso in cui i Mujahedin, prima ancora dei talebani, i talebani sono ancora più a destra, cioè più a destra, diciamo, più a destra nel senso che sono ancora più violenti in fronte delle donne, sono arrivati a Kabul e hanno messo il velo alle donne. Tutto l'obiettivo di tutti quelli che volevano parlare contro la guerra in Afghanistan era quello di mettere il velo alle donne. Per cui guardate bene da dove è arrivata la predica. Anzi, sono arrivati anche a confrontare l'Afghanistan col Vietnam. Pensateci un pochino. Dopotanto siamo una donna a pagare. Poi sono fatti i vostri. Vabbè, siamo perduti un pochino l'Afghanistan, ma... Dalla Repubblica del 2 aprile 1998. Riconoscere le coppie gay. Proposta di legge alla Camera, il Vaticano si infuria. Eh sì. Perché si infuria il Vaticano? Perché il Vaticano, per 50 anni dall'entrata in vigore della Costituzione, ha tentato di spacciare, di giocare sul termine famiglia, dove il termine famiglia, che è la Costituzione, indica l'unione di persone, per il Vaticano significa l'unione fatta da Dio fra uomo e donna. E per 50 anni il Vaticano è riuscito a tenere in scacco la Costituzione della Repubblica, umiliare i cittadini, per la loro vita. Eh? Questo è solo perché il Vaticano ha giocato su un termine, il termine famiglia. Che me significa? Per la Costituzione una cosa, per la Chiesa Cattolica un'altra. Ebbene, la Chiesa Cattolica è riuscita attraverso la sua organizzazione mafiosa a imporre il suo concetto di famiglia. Adesso, adesso e comunque man mano che andranno avanti le cose, le cose diventeranno sempre più vicine a quello che è la Costituzione della Repubblica, cioè i principi fondamentali della Costituzione, il Vaticano si infuria. Cioè il Vaticano tende a offendere la Costituzione della Repubblica. È veramente una cosa vergognosa. Vediamo un pochino avanti ancora. Siamo sempre al nostro prete. Oh, che bella questa. Dal Gazzettino del 1 aprile 1998 e la Repubblica del 3 aprile 1998. Gli stregoni portano la pioggia in Amazzonia. Dice, sarà un caso, ma una pioggia torrenziale dopo sette mesi si c'è caduta ieri per ore su varie zone allo Stato brasiliano di Roraima, dove da quasi due mesi infuriava quello che ormai è stato definito il più grande incendio boschivo della Terra. Due stregoni, i Kaiapò, fatti venire a posto in aereo da 2000 km di distanza a spese allo Stato brasiliano, hanno attribuito all'infallibilità della pioggia la salvatrice ripresa delle precipitazioni. L'inaspettato acquazzone, che gli scettici definiscono un'ulteriore bizzarria del nino, il fenomeno climatico, ha migliorato la situazione sul fronte di... I due paie, Kaiapò, si sono fatti... dunque, il fenomeno climatico responsabile del giusto ecologico ha migliorato la situazione, no? L'unedì sera al tramonto i due paie e Kaiapò si sono fatti trasportare sulla riva del rio Branco, a poca distanza da Boa Vista, capitale dello Stato federale del Brasile di Roraima, eccetera. Dice su st'altro, sarà bastato l'arrivo di... Allora, quest'altro dice è bastato l'arrivo di Krukrit e Mantì, due stregoni fatti arrivare a posto in aereo a 2000 km, eccetera. Dei 40 focolai del disastro ne restava attivo solo uno nella savana ai confini fra Brasile e Venezuela, ma l'emergenza rimane, eccetera. Cioè, chiariamoci una cosa, io posso chiamare tutto il mondo a sorreggermi, ma è inutile che chiamo il mondo per delle sciocchezze e questa è una sciocchezza, nel senso che hanno concentrato la loro attenzione e il loro potere per far piovere, col risultato di non aver cambiato le condizioni che portano a incendiare la foresta. Cioè, la foresta viene incendiata dagli uomini, non dalla siccità. Io non sono molto d'accordo con l'attività di questi stregoni o anche di attività simili. L'importante è cambiare gli uomini che guardano il mondo, non il mondo in funzione degli uomini. E purtroppo da questo modo di guardare le cose succede sempre che adesso questi due stregoni cosa diventano? Dei personaggi davanti i quali mettersi in ginocchio perché hanno il potere di chiamare il mondo in loro soccorso? Cioè, è abbastanza fastidiosa la cosa, è abbastanza pesante. Se abbiamo al centro del nostro interesse l'essere umano, è l'essere umano che deve trasformarsi e la trasformazione dell'essere umano che porta alla trasformazione del mondo. Non è possibile fare nessun altro tipo di operazione e purtroppo la tentazione che hanno alcuni esseri umani, arrivati ad un certo livello che si definiscono stregoni, è proprio quello di alterare l'oggettività anziché di produrre immutamente all'interno della specie umana. Purtroppo con queste cose dovremo sempre, sempre, sempre farmi conti. E a me non piacciono, sinceramente. Clinton. La comunione gaff. I vescovi cattolici criticano Clinton. Dal gazzettino del 2 aprile 1998 e della Repubblica del 7 aprile 1998. Cosa è successo? È successo che Clinton è andato in una chiesa, è andato in una chiesa, una chiesa cattolica nel Sudafrica, e nel nassista, la cerimonia eccetera, ha preso anche la comunione. Ora vi ricordo che per i cattolici, poi ognuno pensi quello che vuole, l'ostia è il corpo di Cristo, cioè durante la comunione l'ostia è il corpo di Cristo. Mentre invece per i protestanti è un'altra cosa. Ma per i battisti l'ostia non è il corpo di Cristo. Per cui è come se il prete in quel momento avesse buttato, avesse calpestato il corpo di Cristo, cioè se fosse stato nel Medioevo, avrebbero bruciato lui e scomunicato Clinton. Vabbè, fortuna per quei prete che non eravamo nel Medioevo. dal 44 1998, mi sembra, dal Gazzettino o dalla Repubblica, vabbè, uno dei due, crollo di noto indagato il Vescovo. Cosa c'entra la religione con il fatto di un Vescovo indagato per il crollo di una chiesa? Cosa semplice, in effetti il Vescovo della chiesa non gli ne frega assolutamente niente. Poteva intervenire, poteva sistemare un'opera d'arte, invece non gli ne frega niente dell'opera d'arte, non gli ne frega niente della sua chiesa mezza crollata. Gli interessa solo una cosa, controllare le persone e avere il denaro. Questo gli interessa, perché questa è la centralità del fare di un cattolico. Non esiste un'altra cosa. Andiamo avanti ancora. La chiesa russa. Il premier appartiene a Scientology. Attenzione. A me di Scientology non mi frega niente, anzi. Fatti loro. Chi vuole essere fatto fesso, fatto fesso sia. Il problema è un altro. Il problema è che una volta che si è saputo che questo premier russo e di Scientology si è scatenata alla chiesa moscovita. Dunque, una notizia subito commentata con preoccupazione dal patriarcato di Mosca, che ha chiesto a Kirienko di fare luce sulle proprie idee religiose. Questa setta, Scientology, non è proibita in Russia, dichiarato all'agenzia di statui dal presso il sacerdote Alexander Dvorkin, specialista in sette totalitarie. Ma è considerata molto pericolosa. Al momento dell'adesione, il nuovo seguace deve raccontare tutto per fini particolari. Un messaggio chiaro alla maggioranza nazionale comunista della Duma. Se votate per Kirienko avreste un premier dichiaratamente ebreo e che per aggiunta è una marionetta in mano a una setta americana. Cioè, la chiesa russa sta alla Russia come la chiesa cattolica sta all'Italia. Né più né meno. Si chiamano ortodossi, ma è sempre il stesso centro di potere. Sempre lo stesso Vangelo ed è sempre la stessa Bibbia. Andiamo avanti ancora. Dal Gazzettino del 3 aprile 1998. Un sacerdote colpevole di abusi sessuali su Chierichetti è stato condannato all'argastolo dal Tribunale di Dallas. Allora, abbiamo visto che ce n'è un caso in provincia di Foggia. Abbiamo visto che qui a Dallas ce n'è un altro. È una vecchia storia, anche questo che ormai va avanti da un po' di tempo. Però la condanna è stata fatta all'argastolo. Nella causa civile dello scorso anno, la diocesi cattolica di Dallas era stata condannata a pagare un risarcimento di 119 milioni di dollari, circa 200 miliardi di lire. La saprete dove andrà a finire buona parte dei vostri versamenti per la Chiesa Cattolica. Andrà a finanziare questo, eh? Questo di Dallas. Se l'ebreo ha il conto in rosso, beh, ricordate che nel 1119 il concilio di Laterano proibì agli ebrei e cristiani di vivere insieme. Così, introducendo il sistema di Ghetti, proibì agli ebrei di possedere la terra, così spingendoli verso le attività commerciali e contemporaneamente proibì ai cristiani di praticare il prestito a interesse. In pratica, il concilio Laterano e i cattolici hanno costretto gli ebrei a praticare il prestito ad usura, cioè in pratica a diventare dei banchieri. Il prestito ad usura non è altro che diventare dei banchieri. Bene, in realtà gli ebrei non sono banchieri, cioè nel senso che non è che hanno praticato il prestito ad usura, se non per necessità, se non per imposizione, cioè sono stati i cattolici a costringere gli ebrei a praticare il prestito ad usura. Non è che l'ebreo è usuraio, sono i cattolici che hanno imposto agli ebrei di praticare quel tipo di attività, perché solo quello permetteva loro di vivere, dopodiché, visto che praticavano quel tipo di attività, venivano accusati per essere degli usurai. Se è un usurario, sono uno strozzino ebreo. Il gioco è sempre stato giocato dai cattolici, sono i cattolici che costringono gli altri a commettere delle cose e poi gli accusano di aver commesso quella cosa. Questa è la malversazione di un Voitila, una porcheria. E nell'articolo, che è sulla Repubblica del 28 marzo 1998, in pratica si dice, si vabbè ti vai in Israele e poi ti vedi gli ebrei che si hanno il conto in rosso, insomma, tutti quelli che sono i luoghi comuni sono delle pure e semplici invenzioni cattoliche per accusare il diverso. Passiamo a notizie invece un pochino più curiose. Il gazzettino del 3 aprile 1998 sta cambiando la forma della nostra Via Lattea oppure sulla Repubblica del 3 aprile 1998 stelle impazzite e la Via Lattea cambia forma. Ora, sicuramente ci sono delle leggi fisiche e delle condizioni per cui ciò accade. Ma il problema vero, il problema reale non sono le condizioni per cui ciò accade. È che la nostra galassia, come tutte le galassie, come tutte le stelle, hanno una loro volontà, ha delle loro determinazioni e può giocare all'interno delle sue trasformazioni. cioè può scegliere delle trasformazioni anziché altre. Per cui, chiaramente obbedisce a delle leggi fisiche ma obbedisce anche a una propria volontà, a un proprio modo di essere. Perché, per esempio, non sempre i meteorologi imbroccano le previsioni del tempo. Perché? Intanto non hanno definito tutte le leggi fisiche per cui ciò avviene. E poi, perché esiste una quantità tale di variabili che possono intervenire nel momento per cui le loro previsioni sono sempre più attendibili di qualche decina di anni fa però sono sempre insicure. Perché questo? Perché anche l'atmosfera, anche la Terra, ha delle capacità di scegliere se fare una cosa o farne un'altra. Per cui questo, siccome non rientra nel calcolatore, siccome non rientra nelle variabili possibili o immaginate, esistono sempre delle cose diverse da quanto si aveva programmato. Magari un giorno troveranno una legge scientifica per cui in presenza di quel vento, di quella situazione, di quella zona soleggiata ci sarà sicuramente più pioggia che non meno pioggia come loro pensavano. Per cui arriveranno magari a capire maggiormente il fenomeno. Però comunque c'è una soggettività sia del pianeta, sia dell'atmosfera, sia della galassia che non può essere messa in computer, che non può essere pensata, che non può essere descritta. Per cui esisteranno sempre fenomeni, esistono sempre movimenti che apparteneranno alla soggettività. Come appartiene alla soggettività anche le leggi. Anche le leggi appartengono alla soggettività. Non dimentichiamocelo questo. Noi siamo divenuti ciò che siamo divenuti attraverso delle leggi. Ma proprio perché siamo divenuti e ciò che siamo divenuti attraverso quelle leggi abbiamo una nostra soggettività. non dimentichiamocelo mai questo, cioè non pensiamo che l'altro non esista o l'altro non abbia la soggettività. Per cui, insomma, prendetevi anche questa notizia. Sta cambiando la forma della nostra via latte. Andiamo avanti ancora. La Repubblica del 3 aprile 1998. Il governo apre le porte alla New Age. Allora, qui siamo un pochino nei casini. Perché? Perché la New Age non esiste. Cioè, non esiste niente che è definibile come New Age e nello stesso tempo qualunque cosa si vuole fare vendere, si vuole far passare, si vuole commerciare, si vuole piazzare, appartiene alla New Age. La New Age è un'amalgama di persone che si riferiscono alla New Age. Ma la New Age come tale non esiste. per cui qualsiasi cosa può essere New Age senza essere New Age purché come New Age si venda. Per cui alla fine del circolo si vende solo. In una commedia che ho visto ultimamente, no? Amlieto non si sposa. Fatta dai Broncovitz, mi sembra. C'è la la ragazza, la protagonista che dice sai, la principessa, nel mio paese una volta furono fatti molti delitti, dei grandi delitti. Ebbene, per esecrare quei delitti da bambina mi ricordo che venivo portata in piazza e salivo sul palco, parlavo ed esecravo i delitti e dopo mi compravano il gelato. Poi gli anni sono passati e alla fine andavo in piazza solo per comprare il gelato. questo più o meno è cos'è la new age. Cioè, la new age è un insieme di parole vuote e alla fine della new age c'è solo il costo delle parole vuote. So benissimo che i bisogni delle persone sono tantissimi. So benissimo che il sentire delle persone schizza nei quattro canti del mondo. Questo lo so perfettamente, lo sento e lo vedo. non ho bisogno che qualcuno me lo racconti. Però questo non è new age. Attenzione, a non confondere un bisogno soggettivo, una ricerca, diciamo così, una costruzione soggettiva con qualcosa che si pensi che ti possa appagare quella sete. La sete deve restare sete e l'appagamento è solo crescita di se stessi. e la new age è una specie di vuoto che siccome è vuoto tu cerchi che cosa lo riempie e allora all'interno del vuoto ti muovi, ti muovi, ti muovi e non trovi mai la sostanza. Questo è il discorso. Poi ognuno se trova delle cose che gli piacciono se qualcuno trova delle cose che gli piacciono allora pratichi pure cerchi pure faccia quello che crede giusto perché ciò che è giusto lo dobbiamo comunque fare dobbiamo pur praticare le cose dobbiamo essere ciò che sentiamo e cercare le cose là dove pensiamo di trovarle però secondo me sospendiamo un po' il giudizio cerchiamo pure ma senza farsi coinvolgere e non poter più tornare indietro questo è il mio discorso sulla new age potrei dire tantissime cose però in questo momento non è che mi veniva in mente quando gli egizi davano l'oppio ai neonati qui